E' il numero 16 favorito, 2.64 la quota, i cavalli sono prossimi alla partenza. Macchina che accelera e va per lasciare i concorrenti. Allo stacco emerge dal centro del gruppo il 6, Sergiolina Thor, che si insedia al comando a precedere Samuelita. Poi per linee esterne si fa vedere anche il numero 7, Sessoforte Griff, la squalifica per Snaik. Si va così dopo i 200 in 14.1 sulla piegata con Sergiolina ancora al comando davanti a Samuelita. E così è al paletto dei 400 in 30 appena abbondanti. Per linee esterne si faceva vedere il numero 9, Sillochei, che poi sbaglia. Ancora adesso il tentativo da parte di Sessoforte Griff, la squalifica per Steffi di Costa, la squalifica per Samuelita. 44.7 il passaggio ai 600 di gara, quando adesso si va sulla piegata di destra, sempre al comando Sergiolina, davanti al numero 7, Sessoforte Griff. Quindi c'è il 3 sul Tano Vrain, poi ancora Stile Ok, in quarta posizione alla corda. 1.2 e mezzo il passaggio agli 800, ora si va al chilometro con il cronometro che per Sergiolina segna 1.18.8. Ultimi 500 di corsa, Sergiolina che prova ad allungare, gli altri che si fanno vedere per linee esterne cercano la progressione. Prima il numero 15, Sibischi di Biel, poi il 16, Special 1 LF. La squalifica anche per Sultanov Brown, si va adesso al completamento della piegata. Davanti c'è sempre Sergiolina Thor, che cerca ora di fare selezione. Si scopre in quarta corsia, addirittura Special 1 LF, addirittura di arrivo, Sergiolina davanti. Poi inventario gli altri con Special 1 che prova ad emergere nei confronti di Sibischi. Sergiolina Thor che ha fatto la differenza giocando, ganci il cibo. E viene a concludere Sergiolina Thor che sul palo precede Special 1 LF, signor Ottopar. 2.37. Il tempo totale, 1.16.8. La media al chilometro per Sergiolina Thor e Antonio Valotti, che hanno fatto la differenza giocando d'articipo. 2.78. La quota al totalizzatore. Andiamo a rivedere le immagini con Sergiolina che affronta addirittura con ampio margine di vantaggio. Si volta il suo interprete per controllare gli avversari. Emerge al centro della pista Special 1 LF, che nel finale può essere solamente secondo. Mentre per il terzo c'è il numero uno, signor Ottopar.